Recita con me, tu hai le battute blu. Andiamo? Andiamo dove? Cosa hai addosso? Che intendi? Non possiamo di certo andare così. Andare dove? Non ci credo che l'hai dimenticato. Dimenticato cosa? Che giorno è oggi? Che giorno è? Dovevamo andare a cena fuori. Ah giusto, la cena, ma sai cosa? E' meglio essere che siamo a casa, perché oggi è come l'anno di mia madre, te ne sei dimenticata. Ok.